Buonasera, abbiamo pensato con Don Colmegna di organizzare il nostro tempo così. Sono 9 e 7, io parlo per circa 10 minuti, Don Colmegna parla per circa 10 minuti, e dopodiché è rotto per così dire il ghiaccio e dialoghiamo un pochino tra di noi ragionevolmente e immagino, Chiara, se c'è qualche intervento, domanda di qualunque tipo della platea, benvenuto. Allora, il tema che ci è stato dato è un tema delicatissimo, ampio, delicato proprio perché molto ampio, il dono della libertà. Queste sono due parole molto impegnative, sia dono sia libertà, che andrebbero forse precisate. Vediamo se mi riesce di farlo nel corso di questa prima parte di questi 10 minuti. Intanto la libertà non è mai un dono, nel senso che la libertà non è mai una cosa che si ottene gratis. Nel corso dei secoli le libertà degli individui sono state ampliate e garantite soltanto a seguito di lotte furibonde, sanguinose, di contese che hanno occupato anni e vite e ingegni per essere vinte. La prima grande vittoria di libertà, che poi si trattava di una libertà di equilibrio tra vari poteri, possiamo giudicare, ritenerla nel nostro mondo occidentale, quella del XIII secolo, quando gli inglesi ottengono, stipulano, promulgano la magna carta libertatum con la quale si limitavano i diritti del sovrano e si affermavano i diritti dell'assemblea rappresentativa delle varie contee e ducati. Quello è stato il primo segno che il potere del sovrano poteva essere limitato e circoscritto, al quale poi naturalmente tanti altri seguiranno. Ma voglio dire che anche quella roba lì fu strappata con i denti. Ancora più fu strappata con i denti. L'altra, sempre per parlare dell'Inghilterra, nel 1688, quella che loro chiamano The Glorious Revolution, dove Carlo I, un secolo prima di Luigi XVI di Francia, insomma perse la testa sul ceppo e anche in quel caso fu una lotta dura attraverso la quale il Parlamento, in quel caso un vero Parlamento, riuscì ad imporre le sue prerogative, davanti alle quali lo stesso sovrano doveva cedere il passo, eccetera, eccetera. Quindi questi esempi sono innumerevoli. Purtroppo ce ne sono pochi, a parte le lotte dei comuni dell'alto medioevo, che riguardano l'Italia. Queste progressive estensioni e garanzie sui diritti di libertà degli individui riguardano soprattutto, e duole dirlo, gli altri paesi. Questo non è per contraddire l'assunto sul quale siamo stati chiamati, cioè che la libertà sia un dono. La libertà, lo stato iniziale, è una lotta. Se vogliamo fare un esempio nostro recente, pensate a che cosa è stata la riconquista della libertà dopo il 1943, e qui lo dico con profonda convinzione, in questa regione, in questa città, quando noi dovemmo riacquistare la dignità perduta, la libertà e anche con un contributo militare a quella che era la lotta di liberazione. Poi però, una volta che sia ottenuta, la libertà continua ad essere un dono ambiguo, fragile, perché se è duro averla, è molto invece facile perderla. I diritti, i tentativi di limitare questo diritto, di comprometterlo, di renderlo più angusto sono innumerevoli e noi stessi vivi oggi, a questo inizio di ventunesimo secolo in Italia, siamo stati testimoni di alcuni tentativi che sono stati fatti, fortunatamente non andati a cattivo fine, è il caso di dire, non andati in porto, ma insomma che ci sono stati, questo per dire che il dono, la libertà come dono, difficile da ottenere e anche molto difficile da mantenere, il che richiede da parte di noi, uomini e donne e popolo, una costante vigilanza. La vigilanza poi si esercita attraverso tante forme delle quali volendo possiamo parlare. Invece la libertà come dono, l'altra faccia di questa endia, del dono e libertà, allude piuttosto al fatto che avere la libertà di donare è uno degli esercizi più alti ai quali ci possiamo concedere. Nel senso, come noi sappiamo tutti nella nostra vita di ogni giorno, piena di triboli, di fastidi privati e pubblici, in certi momenti di vera angoscia, fare un gesto gratuito, fare un gesto senza aspettarsi nulla in cambio, un gesto di pura liberalità, dettato che sia dalle ragioni più varie, generosità pura, disinteressata, simpatia umana, slancio affettivo improvviso. È capitato a tutti noi di fare un gesto di questo tipo, di un gesto di liberalità immotivato, fatto perché era nata una... Te lo regalo. Dici, ma te lo do. Quelli sono i momenti in cui noi, che siamo delle creature feroci, senza non ce lo dobbiamo nascondere, tendenzialmente feroci almeno, diamo il meglio di noi stessi. Quello di avere un gesto che non si aspetta ricompensa, non si aspetta una cosa in cambio, non si aspetta un danaro o altre... una controprestazione, come dicono gli avvocati, quello è uno dei momenti in cui riveliamo il meglio di noi stessi. Io non credo. Vedete, io non credo ai valori universali dell'uomo. Io credo che l'uomo lasciato a se stesso sia piuttosto... tenda piuttosto ad avere un comportamento ferino. Del resto voi sapete benissimo che c'è tutta una corrente filosofica ampia la quale sostiene esattamente questo, che ogni uomo è lupo ha un altro uomo, ogni essere umano è lupo ha un altro essere umano. Bene, questa natura tendenzialmente ferina si vince in due modi. Si vince con una forte carica spirituale, e di questo credo che parlerà Don Colmegna, e si vince con una forte carica culturale. Cioè il fatto di sapere come siamo fatti e di contrastarlo grazie a quelle qualità superiori che è l'applicazione dell'intelletto, l'applicazione... Pensate soltanto in una città come questa, una piccola città della Toscana, uno alza gli occhi in una piazza come quella che ci sta alle vostre spalle e vede questa meraviglia di armonia. Chi l'ha fatta questa piazza? Chi l'ha fatta? L'ha fatta la pazienza, il lavoro, la perseveranza di persone che nel fatto di progettare una piazza così per i cittadini avevano anche loro usato del dono di dare qualche cosa, in cambio probabilmente, in questo caso, ma la grandezza del dono resta intatta. Chiuderei qui questa prima breve intervento rispettando i tempi che c'erano stati dati e Don Colmegna. Ringrazio anch'io soprattutto di essere stato invitato qui anche a dialogare con voi anche perché ricolloco la riflessione che cerco di fare insieme a voi e poi nel dialogo dono e libertà dentro l'esperienza che ciascuno di noi vive. Per me significa rileggere un po' anche l'esperienza che vivo di quotidianità, di ospitalità, dell'accogliere le persone, dello stare in mezzo alle tante situazioni di difficoltà e non la metropoli come Milano, impegnando dentro tutte le energie insieme ad altri di dare senso a questa ospitalità, a questa scelta di gratuità. Se mi permettete, dono per me significa rileggerlo nello stile di gratuità. E proprio all'inizio, perché alcune figure poi segnano e stampano nella vita di ciascuno le esperienze, quando il Cardinal Martini mi disse di prendere in mano Casa Carità, mi disse vivi cultura, spiritualità e gratuità. Che proprio sono le due parole che venivano dette prima partendo da quel laboratorio che è l'accoglienza delle persone che sono segnate anche da disagio, da povertà, dove ci si rende conto che l'anelito di libertà è anche una straordinaria conquista di speranza. E allora mi pare che tra libertà e dono vi è sempre una dialettica. io rileggevo quello che si parlava prima di libertà, di diritti umani, la libertà è conquistata, la libertà è una dimensione sociale, scorre dentro nelle nostre... Io che accolgo continuamente persone che mi raccontano, sono arrivati da Lampedusa, mi raccontano quello che c'è nei loro pateri, mi rendo conto che non è più un'azione di ospitalità semplicemente questa. Ha dentro il timbro l'interrogativo anche alla nostra cultura, a ciascuno di noi di responsabilità perché lì ci portano un disagio, cosa significa dittatura, cosa significa povertà, cosa significa avere un'obbligatorietà, penso all'Etiopia, all'Eritrea, i giovani che vengono lì cinque anni obbligatori di servizio militare, di guerra, di sparare, la rottura di questo clima che credo ci faccia riflettere non solo del nostro paese complessivamente. Ecco, un autore diceva per molte persone mi fa pensare la parola libertà esprime un concetto positivo, lottano per la libertà desiderando ardentemente la libertà, ma dimenticano spesso che libertà è come un campo smisurato e senza sentieri, ci si può muovere in ogni direzione certo, ma non c'è neppure niente che ci aiuti ad orientarci, anche in un campo vuoto e sconfinato si può vagare disperatamente. La libertà è questo orizzonte dove ciascuno deve cogliere dentro di sé il senso più profondo, quando si ragiona si vede anche persone distrutte da questo percorso di dipendenza, un po' tutti noi siamo dipendenti, il problema è come dialettizzare la dipendenza con spazi di libertà, di creatività, di fantasia che poi rimette in gioco l'energia di una persona. Quindi la libertà è una straordinaria opportunità, è la pienezza di senso che ci viene data, guai a noi, se decidessimo di essere semplicemente obbedienti, mi lasciate ricordare l'altra persona che mi ha segnato alla mia esperienza quando Don Milani diceva che l'obbedienza non è più una virtù, lo diceva dentro certamente immessa dentro all'interno di una realtà dove c'era non lo spirito ribellistico, c'era la comprensione che un certo tipo di obbedienza qualche volta ti produce rassegnazione. In questo periodo certamente noi dobbiamo avvertire questa sete profonda di libertà. Io cito qui una frase anche della Bibbia se mi permettete dalla lettera di Paola ai Galati al capitolo 5 dove si dice voi infatti fratelli siete stati chiamati a libertà purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. infatti tutta la legge trova Pierinnezzi in un sol precetto amerai il prossimo come te stesso questa traduzione si potrebbe dire così come dovrebbe essere più corretta ama il prossimo sei te stesso è la relazione con l'altro che entra dentro di te e ti cambia e allora la logica della gratuità che è l'altra dimensione fondamentale che è straordinariamente creativa in una società utilitarista come questa dove anche le risposte alle fasce deboli della popolazione alle tante povertà diventano un mestiere qualche volta dove la professionalità che pure esigita qualche volta fa perdere questa dimensione di gratuità che è relazione che è vincolo che è impegno di responsabilità che è sguardo dove ciascuno di noi si assume questa responsabilità noi abbiamo vissuto dove ci accorgiamo che ci sono elementi anche di indignazione ma spesso diventano impotenza incapacità o rassegnazione indifferenza portare dentro la responsabilità rispetto all'altro l'altro che entra dentro di noi la gratuità il dono è un dono di reciprocità donando non è che poi chiediamo lo scambio ma mette dentro l'altro in relazione con noi ha una dimensione sociale la gratuità la gratuità entra dentro anche nei linguaggi economici che dobbiamo certamente importare io cito anche il rapporto grosso tra sviluppo economia libertà penso a Marzia Sen tutte le sue riflessioni che fa tra economia e libertà e dovremmo in questo periodo dove tutto sembra rigidamente razionale dettato da altri dove il bimbo che nasce al mattino invece che l'eggiaculatore sente già come va lo spredo come va è invaso da questi linguaggi dobbiamo riscoprire la vivacità delle relazioni libertà gratuità dono rimesso dentro anche in questa energia grande che c'è che spiega anche il perché anche in una metropoli dove sono con tutte le difficoltà lo sguardo che si vede ogni giorno ci rendiamo sempre conto che la libertà è questo spazio grande che è dono ma anche che la gratuità è questa capacità di rivivere il dono Marcel Mauss scrisse un bellissimo saggio pensate 1924 quindi prima dove dicevi il dono vi appare riletto sempre come relazione è la relazione con l'altro che ti arricchisce Levinà parla dell'umanità nell'umano è la responsabilità rispetto all'altro l'altro ti è dato per riempire anche la tua vita ma ti impegna responsabilmente questa società nella quale l'invasione dell'individualismo pesante la Thatcher diceva che non esiste la società esiste l'individuo e questo ha portato ha trascinato dentro con noi questo individualismo apparentemente onnipotente che lascia un vuoto di debolezza immenso e allora la capacità della relazione della gratuità dello riscoprire l'altro dell'appassionarsi anche questo sentimento creativo perché io continuo a insistere che anche nella piccola esperienza che vivo l'aspetto culturale è molto importante significa raccogliere la poesia che emerge il dramma ve lo lasciate dire una delle gioie grandi che ho è che con tutta la difficoltà avendo accolto anche situazioni contraddizioni contraddittorie bimbi insieme alle loro famiglie presi dai campiron che convivono insieme ad altri il fatto che però 17 di loro vanno al conservatorio e esprimono questa potenzialità immensa ha voluto dire non semplicemente fare un gesto assistenziale ma riscoprire la capacità che nella relazione ciascuno apparentemente donando mi è stata restituita evidentemente questa straordinaria capacità di accompagnare le persone non di occuparle col proprio potere assistenziale ma essere sempre capaci di interrogarsi il dono è sempre un grande dono che ci interroga ci inquieta ci apre interrogativi dubbi ci apre ci rende deboli ma creativi qualche volta ci rimette insieme senza sicurezza uno degli elementi negativi che c'è in questo periodo tra i tanti ma insieme alle tante speranze è l'assistenzialismo cioè dire il povero mi serve io qualche volta usavo questa frase ma lasciate dire qualche volta entrano le cavie dei nostri esperimenti di bontà e dopo di che li abbandoniamo non entrano dentro in relazioni in dinamiche di cambiamento la libertà è la capacità di restituire all'altro anche la possibilità di dirti di no di rifiutarti o comunque di utilizzare negativamente alcune cose di vedere che non arriva il risultato che tu dai non è utilitaristico il dono non si misura dono per poi ricevere rimetto in gioco questa logica di gratuità che la gratuità libera evidentemente anche nella libertà Ricœur considerava il dono all'intreccio di un sistema di assi cartesiani dove la direzione orizzontale è quella della reciprocità la verticale introduce la dimensione della gratuità e quindi della libertà ecco la gratuità è la lettura che secondo me può unificare libertà e dono ma dentro poi ci sta l'esperienza dei sentimenti del nostro modo di esprimersi dei sentimenti caldi delle utopie tra i tanti io ritengo sempre che porta dentro l'impossibile qualche volta mi viene sempre da ricordare la frase di Balducci e vent'anni della sua morte dove tra le tante cose diceva siate ragionevoli chiedete l'impossibile quando sento parlare preti come don Ciotti don Colmigno penso preti di base come era don Diana che combattono in prima linea mi riconcilio io che non sono cattolico con una religione che per tanti altri aspetti lascia fa sorgere dei pesantissimi interrogativi e allora piuttosto che fare un altro breve intervento anche se le cose da dire sarebbero moltissime voglio fare a don Colmigno una domanda come fa come vive come lascia convivere un uomo come lui che dice con l'energia con la quale ha detto le cose che ha detto come fa a convivere in un organismo spirituale e politico che per altri aspetti lascia così tante cose insomma ci fa sospettare delle cose tremende me l'aspettavo questa domanda era la prima che mi doveva fare ma e e la raccolgo evidentemente non con gioia certamente non con gioia nel senso che la domanda è più che legittima perché passa dentro di me è chiaro che uno che sceglie di vivere in un certo modo e riscopre la libertà e la bellezza del Vangelo prega perché la preghiera per me è evidentemente una dimensione importante che riconsegna la mia debolezza dentro in una prospettiva di intercessione qualche volta di rabbia lo dicevo prima che quando mi hanno dato un po' di tempo fa arrivo alla risposta ma lo volevo inquadrare la Laura onore in causa la bicocca di scienze dell'educazione la mia cosiddetta lezio magistrale si è stata fatta la pedagogia del chi ce lo fa fare ma perché credo che davvero non c'ho una risposta se non quella dell'avvertire quotidianamente che questo Gesù che al quale consegno anche la mia speranza la mia fatica è certamente uno che si apre il dialogo interviene sta in mezzo questa dimensione spirituale è certamente più forte di una dimensione che è semplicemente istituzione pesante se volete carica delle contraddizioni i padri della Chiesa chiamavano Casta et Meretrix lo dicevano già a quei tempi rispetto a questo ci sto dentro perché in quella Chiesa c'è il sacramento c'è l'Eucaristia c'è la parola c'è il mistero che evidentemente mi mette insieme per il quale gioco la mia vita e che non la voglio portare agli altri c'è l'inquietudine la domanda Romano Guardini questo grande teologo quando era lì pieno di dolore con un tumore che lo massacrava le persone che erano vicine gli dicono quando vai di là il buon Dio ti farà un po' di domande gli dice quando vado di là il primo che gli deve fare delle domande sono io e credo che davvero sia un elemento importante di di grande dibattito interrogativo certo c'è una sofferenza che è forte che è dentro anche nella pagina del Vangelo e le ore che ci sono adesso le fanno vivere ma non riesco a non essere dentro in quella chiesa che mi ha consegnato il modo di vivere i miei la parola i seclamenti che poi riporto dentro con me la coerenza mi fa ancora più soffrire ma c'ho dentro anche la gioia di un'appartenenza che è più grande evidentemente che raccoglie tutta la dinamica più grande io vivo in un luogo dove sono più i ragazzi musulmani che ho lì che i miei condivido insieme questa esperienza di carità ci soffro non sono capace di di non amare non la chiesa istituzione ma dentro la chiesa istituzione amare le straordinarie esperienze di fiducia nel Vangelo di libertà che il Vangelo porta e faccio io una domanda adesso no dico nel senso che la dimensione di fede prima ancora è una dimensione inquieta di dubbio Cardinal Martini mi disse sempre una frase che mi si è stampata per credere devi far parlare il non credente che è in te e credo che sia evidentemente una domanda molto forte perché accanto alla dimensione anche religiosa c'è i grandi interrogativi sulla vita sulla sofferenza sul senso da dare anche al futuro mi ricordo sempre a Marti Asseni in un articolo sul mulino mi aveva fatto riflettere perché metteva dentro uno sguardo visto che siamo anche nella settimana sui dialoghi sull'antropologia diceva anche consegnare la speranza per il futuro per le generazioni che verranno per i figli dei figli e dare senso all'impegno che facciamo abbiamo bisogno che ciascuno di noi pensi a una soggettività anche a un futuro a una relazione che sia importante io avrò dei dubbi ma anche non credente credo che qualche interrogativo là dentro rispetto a questo lo dico nel modo del dialogo perché alcune questioni sono molto forti diventano importanti si dialoga usavi la parola prima cultura e spiritualità e credo che ci sia una spiritualità anche laica un bisogno di silenzio e di interrogativo che sia importante mi ha sorpreso prima quando lei ha ricordato che Cardinale Martini che ha citato tre volte il che è una guida anche per non c'è dubbio per ascoltare e indirizzare le sue parole le aveva detto di mettere insieme quella cultura la spiritualità è una terza cosa che adesso bene io voglio fare un breve intervento che credo sia complementare al suo nel senso lei nello spiegare il dono e la libertà si è rifatto intanto alla sua esperienza fortissima e quella resta la sua perché io non posso che opporre esperienze fatte sui libri lei invece la pratica nella vita di tutti i giorni è davanti a questo per così dire io mi tolgo il cappello ma un aspetto complementare lo posso tirare in ballo lei ha fatto risalire questa questa inclinazione alla forte spiritualità che indubbiamente la anima e che le fa superare anche le atroci contraddizioni con il comportamento con certi comportamenti dei vertici della sua chiesa io invece dico un'altra cosa dico che la libertà è una conquista dell'uomo per l'uomo una volta discutendo con il comune amico Vito Mancuso il quale è un teologo cattolico ma con supposizioni assolutamente sue che qualche secolo fa gli avrebbero lo avrebbero condotto direttamente sul rogo gli ho detto sa Mancuso perché lei può dire queste cose in libertà e non succede niente al massimo c'è qualche articolo che dice Mancuso è esagerato perché ci sono io non io quelli come me quelli che l'hanno pensata come me da tre secoli a questa parte e che hanno progressivamente affermato nella politica nella cultura nell'esercizio quotidiano della vita i diritti e le garanzie della libertà che prima non c'erano questo caro Don Colmenia e gentili amici questo è il complemento a quello che ha detto perché che ha detto il nostro autorivole dibattente perché se noi ci affidiamo solo alla spiritualità il dono della libertà e la libertà del dono comunque lo si voglia considerare restano appesi un po' alla fragilità del momento degli umori delle forze in campo laddove se noi questo esercizio della libertà lo consacriamo come si diceva una volta per tabulas cioè lo scriviamo ne facciamo un patto tra di noi allora anche la spiritualità se ne avvantaggia se quelle cose sono previste guardate io avevo giorni fa sotto gli occhi sotto gli occhi ci stavo lavorando e quando me l'hanno chiesto e l'ho ripetuto l'articolo l'articolo della Costituzione della Repubblica Francese del 1793 come tutti sappiamo il 93 è l'anno in cui Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta a distanza di qualche mese vennero ghigliottinati in piazza gesto atroce ma in quello stesso anno nacque la prima Repubblica Francese che per quello che riguarda la libertà prevedeva la libertà è il potere che appartiene all'uomo di fare tutto ciò che non leide i diritti altrui questa è un'affermazione fondamentale capitale non era mai stata fatta prima tutto ciò io sono pienamente padrone di esercitare tutti i miei diritti e consapevolmente anche di essere soggetto a tutti i miei doveri e li posso esercitare fino a quando questo esercizio non va all'edere la libertà di un altro lì mi devo fermare ma fino a quel punto io devo godere di tutta la libertà possibile essa diceva sempre questa cosa il suo fondamento nella natura qui si rifacevano a Rousseau ma insomma secondo me la cosa poi è andata un po' per conto suo la sua regola nella giustizia e la sua salvaguardia nella legge questo a me preme caro Don Colmegna e gentili amici che la salvaguardia di questa libertà sia scritta nella legge perché se non fosse stata scritta nella legge e in quella legge è fondamentale che ci tiene tutti insieme nella stessa lingua e con lo stesso passaporto in tasca che è la Costituzione della Repubblica se non ci fosse stata quel baluardo alla difesa della libertà di ognuno di noi le cose oggi sarebbero ancora peggiori di quanto non siano certamente tra l'altro proprio rispetto a questo quando si parla di spiritualità bisogna subito precisare lungi da me pensare all'intimismo quella chiusura di una spiritualità che si separa ma che si immerge dentro in una comprensione di tutte le dinamiche di tutta la pluralità delle appartenenze il concetto di laicità è un concetto che deve stare dentro fortemente quindi la battaglia contro tutti i fondamentalismi da una parte dall'altra presenti anche nel nostro mondo evidentemente non è una battaglia lontana si citava la Costituzione per me la Costituzione è un punto di riferimento straordinario dove culture diverse appartenenze diverse hanno prodotto questo grande incontro radicato nella libertà nei principi fondamentali ed è questo il patrimonio che in questo momento non si può mettere in dubbio ma si deve rileggere insieme cosa significa perché i padri costituenti venivano da tradizioni la tradizione marxista socialista la tradizione cattolica ma insieme hanno trovato un punto di unità straordinario che è nato evidentemente da gente che pensa che si confronta sulla realtà che poi ti interroga e ti inquieta non è l'imposizione e quindi questo è uno degli punti fondamentali credo che ripartire dalla costituzione lo dico ripartire perché in questo periodo non è che proprio sia così semplice continuo ad andare in giro anche nelle scuole a discutere e spesso vedo molti adulti che citano la costituzione che magari anche posti di responsabilità che non l'hanno mai letta o che fanno finta di usarla male lì è un patrimonio che è frutto evidentemente di estrema importanza perché quello è un punto di sintesi in una cultura di laicità dove bisogna riscoprire anche il valore certo uso una parola che qualche volta in questo periodo la diciamo con timore però il valore di una politica che è per il bene comune la ricostruzione delle persone che fanno politica di cittadinanza guai a me se accogliassi le persone cercando di utilizzare la mia impostazione per fare l'apologetica della chiesa rispetto agli altri questa caritatevole buttata dentro in termini diversi non appartiene evidentemente al nostro modo la gratuità che dicevo giunge anche a dire che nel momento in cui mi incontro con gli altri metto a disposizione la mia gratuità che si interroga si inquieta e si apre a quel dialogo che non è un dialogo per cercare di riprendere la posizione dell'altro è un dialogo che ti interroga che ti inquieta che ti rimette in discussione gratuità significa questo io l'ho avvertito nella mia dimensione è chiaro che quando ci si accorge di accogliere persone si vede le reazioni anche grosse si difendono i diritti si difendono i diritti anche qualche volta c'è dentro disobbedienza è chiaro che accolgo anche persone senza permesso di soggiorno laddove queste persone bussano aprono e da quel lavoro non nasce un generico assistenzialismo nasce un bisogno di trasferire questa ospitalità trasversata in discorsi legislativi in leggi in cambiamenti in culture di cambiamento questo è un impegno che abbiamo accanto a tutti mai nella mia realtà quando uno viene gli chiedo che tipo di confessione hai lo guardo in faccia e dico sei donna sei uomo ti accolgo perché entriamo in relazione insieme ed è lui che cambia questo tipo di percorso citava la Costituzione credo che sia estremamente importante questi principi non sono i principi lasciati all'altro uso una parola che evidentemente entra dentro se si vuole i principi non negoziabili appartengono alla coscienza alla comunità dei credenti e quando si mettono in gioco dentro nel sistema ancora una volta cito Cadea Martini è il bene possibile che devi cercare di ritradurre sempre insieme ma questo ha bisogno di una grande formazione alle spalle non è vero che dialogare e rimettersi insieme significa semplicemente cedere alle posizioni vuol dire essere interrogati dalla posizione degli altri aprire riflessione e continuamente confrontarsi la nostra identità è un'identità plurale non è un'identità rigida non si forma l'identità contro perché l'inimicizia produce catene non produce libertà e credo che questo sia importante anche in tutta l'esperienza Don Cormegna abbiamo consumato la metà del tempo vogliamo aprire c'è un signore qui in seconda fila volevo dire soltanto due parole io sono un credente ma noi si parla direttamente di dono e di donare ma noi che siamo dei credenti facciamo quello che Gesù ci ha insegnato lo facciamo veramente oppure no io so che anche Gesù non era un cristiano attenzione lui era un ebreo e voglio sapere anche una cosa se noi dovremmo essere fa parte anche dell'ebraismo perché io come storico certe cose le ho studiate so perfettamente cosa significa essere un ebreo e so anche come ci si deve comportare da cristiano vorrei sapere soltanto una cosa noi facciamo quello che Gesù ha detto o sono parole come dice Gesù questo popolo mi onora con le labbra ma il corso è lontano da me mi fermo grazie questo appartiene a lei ah ve le facciamo no no voglio dire se ci sono un po' di altre domande se no se dobbiamo sì c'è ci sono molte domande Chiara stasera farà un bel esercizio di movimento movimento allora voi ci avete descritto due bellissime verità che si contemplano signora mi scusi se la interrompo sarebbe bene per rispondere poi se lei è Mariana Mariana ecco così poi è più facile ci avete esposto due bellissime verità che si contemplano e si uniscono in una maniera così meravigliosa ora quello che vi volevo chiedere certe volte la verità fa sentire un pochino onnipotenti voi che ne pensate del dubbio? Paolo sì anch'io sinceramente complimenti perché ci avete credo offerto uno scenario bellissimo direi in stereofonia io invece sono non credente sono stato stimolato un po' sulla gratuità del dono cioè è bello questo tema effettivamente della libertà di donare no? sull'altro sull'altro aspetto è stato illuminante l'introduzione di 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 ma sul tema della gratuità del donare mi è venuto in mente anche da non cristiano cattolico sant'agostino che dice con un comandamento solo ama e poi libero fai quello che vuoi no? questo aspetto importante dell'amore che sta sopra a tutto e che dal punto di vista laico invece è la legge è la costituzione cioè che ti imbriglia che ti dà quelle regole che dicevate e allora e qui scendo in una banalizzazione no? che è proprio di questi giorni e di queste ore mi ha fatto pensare a questa gratuità del dono cioè donare vuol dire anche avere no? cioè io dono quello che è mio qui invece si vede che spesso si dona quello che non è neanche nostro perché magari è di tutti e qui si dona no? ma perché non è tuo e allora mi veniva in mente e qui mi rivolgo mi rivolgo a questa cosa mi rivolgo al prete no? a comunione e liberazione al nostro formigoni e lui gli hanno donato no? è bello il potere il potere che dona dice se trovate poi riscontri su vantaggi quindi doni che io posso aver dato come se fosse roba sua se posso aver dato a Dacò allora io mi dimetto beh cioè qui siamo veramente cioè è comunione e liberazione questa roba qua grazie 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 tu su formigoni vorrei dire sì 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 vai bene anche io eh anch'io non pensate mica che su formigoni vorrei dire una cosa perché lui io nella più con una certa ingenuità quando venne fuori la faccenda che nella sua lista alla regione Lombardia era stata messa una signorina diciamo dai costumi vivaci come la la come si chiama la Minetti Minetti eh quella lì quando io mi dissi questo povero uomo è stato turlupinato è stato è stato ingannato perché mi ricordavo l'immagine di un formigoni uomo pio arrivato vergine a un'età avanzata e invece poi abbiamo scoperto che questo qui è uno che da vent'anni da vent'anni quasi amministra la regione più ricca del paese e si permette nonostante abbia goda di un'indennità dignitosissima si permette di fare quelle sciagurataggini di farsi pagare le vacanze da un faccendiere qualunque di mescolarsi alla gestione del San Raffaele e lì caro Don Corbegna le devo dire una cosa perché alle spalle di formigoni non c'è soltanto da co come ricordava il nostro amico Paolo alle spalle di formigoni c'è comunione e liberazione e allora io ripeto la domanda io ripeto la domanda usare due parole così che lei giustamente potrebbe definire sacre e che io definisco importantissime come comunione liberazione e liberazione per battezzarci una cosa che è diventata dopo il fondatore per carità è diventata una congrega di affaristi mi sembra dal suo punto di vista blasfemo sì rispondo e poi arrivo a questa anche perché forse conviene dirla subito visto che poi ritorno invece alle altre due domande è chiaro che vivendo in Lombardia figuratevi cioè la battaglia è proprio trasversale contro rispetto a questo a un modo di gestire potere a un modo di gestire la sanità a un modo di creare clientelismo che è suo drammaticamente dalla sua impostazione come trasversale ma certamente c'è quella c'è quella dentro in un'alleanza qui le presenze cattoliche che si rischiamano cattolici che in politica però vivono laicamente questa esperienza non da cattolici ma dentro all'interno evidentemente hanno posizioni anche diverse da tempo si schierano da tempo se volete me lo lasciate dire a Milano non è che non è succeduto che non si è preso posizione e si è impegnati per voltare pagina perché questo è e l'abbiamo detto l'abbiamo detto con coraggio con una presenza decisiva anche dal punto di vista di gente che dice queste cose non perché è cattolico altrimenti riapriremo quel fondamentalismo che non funziona perché la laicità in politica è un elemento importante bisogna conquistare le ragioni che ci sono certamente lì c'è un connubio di potere che è arrivato dentro ma ancora di più grave e qui lo dico è quando anche qualche autorità ecclesiastica ha inserito dentro perché poi c'è la domanda che la politica potrebbe essere separata continuamente dalla esperienza personale privata io credo che uno che ha una responsabilità pubblica ha un bisogno assoluto esigente di essere espressione di una soggettività coerente non è più possibile separare queste due cose e il fatto che si è e il fatto che su questo si è turlupinato un po' troppo rispetto a questo per cui il degrado della politica della corruzione del sistema è legato anche al fatto che in politica si può dire le parole che si vogliono intanto non conta niente la dimensione soggettiva poi è diversa la politica in questo senso deve ricostruire questi percorsi e la critica forte che viene fatta anche perché poi era un'alleanza quella un'alleanza spuria perché portava dentro alcune idee se mi permettete molto pesanti pensate a tutta l'esperienza io ho vissuto a Milano abbiamo cambiato pagina che c'erano le scritte Zingaropoli o tutto il resto nell'accoglienza che ho fatto rispetto al momento caldo degli albanesi accolti ho vissuto un anno e mezzo sotto scorta e quindi so benissimo cosa significa questo dentro la battaglia quello che dico è di non identificare anzi ogni volta che si usa il nome cattolico per turlupinare sul sociale e così via si offende due volte questa fede cattolica che mi ha detto che deve essere dentro all'interno come coerenza come capacità silenziosa di costruire legami di appartenenza perché il tema vero è la cittadinanza è come ricostruire giustizia quindi da questo punto di vista non c'è dubbio comunione e liberazione detto in compagnia delle opere vent'anni è l'unica regione dove siamo vent'anni di potere con tutto il sistema mai visto una regione con così tante persone che sostanzialmente sono sotto inchiesta il fatto di non cedere questo credo che sia un grosso problema certamente se mi permettete nel nostro mondo cattolico la capacità di criticare questo metodo è molto forte cioè il plurale è dentro anche nelle appartenenze anche nostre sul tema dell'appartenenza dell'onnipotenza del dubbio che veniva detto e noi abbiamo vissuto molto deliri di onnipotenza si citava Formigoni ma anche qualcun altro addirittura con lifting ha tentato sostanzialmente di consegnare dei deliri di onnipotenza anche molto forti perché poi il tempo arriva la politica come capacità onnipotente è finita la crisi sta dicendo e quindi noi a questo livello dobbiamo portare dentro il dubbio come motore ma ci mancherebbe altro che la mia fede fosse una fede sicura io qualche volta del resto è dentro nel Vangelo Dio dove sei l'ha detto Gesù in croce Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato ci sono alcune inquietudini alcuni drammi molto forti che entrano dentro anche di noi la fede non è mai questo solco calato dall'alto questa verità onnipotente che viene dentro è questa ricerca paziente silenziosa sofferta di interrogativo nella Bibbia c'è un libro che è quello di Job che qualche volta viene detta la pazienza di Job invece Job è paziente nel senso che ostinatamente difende le sue posizioni anche contro i potenti che c'erano e si mette a dialogare ad arrabbiarsi anche col buon Dio Dio dove sei rispetto a questo c'è un problema quindi di purificazione anche interiore molto forte il dubbio poi fa crescere ci mancherebbe altro che non ci siano i dubbi io quando vedo alcune storie che vengono di quotidianità dubiti continuamente quando intravedi questo c'è una capacità straordinaria di interrogativo qui perché sono stato a presentare una volta il libro di Don Mazzolari e tra i tanti libri ho visto che non c'era questo io sono cresciuto con una predica di Don Mazzolari al Giovedì Santo nostro fratello Giuda che credo abbia posto continuamente dentro questo tema della riconciliazione della pace della capacità di riscoprire continuamente perché la gratuità è anche per dono e anche capacità di rientrare dentro in questi meccanismi io mi sento di dire che appunto per questo però si ha un coraggio anche intransigente la profezia è questa cioè è la capacità di dire chiaro come stanno le cose di rischiare anche di persona rispetto a queste cose dentro una fatica comunque che è quella di ricostruire legami di appartenenza non c'ho dubbio che speriamo tutti che si cambi in fretta anche in Regione Lombardia che questo sistema di potere questo e dei altri sistemi di potere venga lasciato alle spalle forse qualche piccolo segno di speranza lo dobbiamo avere Volevo solo fare un codicillo brevissimo perché Don Colmegna ha detto che è ora di finirla di distinguere in maniera degna dei gesuiti mi permetta i comportamenti privati delle attività pubbliche questa cosa è prevista dalla Costituzione all'articolo 54 dove si dice chi esercita un incarico pubblico deve farlo con disciplina e onore quindi questo coinvolge anche la vita privata quindi come vediamo la Costituzione aveva previsto tutto anche anticipato i signori che sarebbero venuti altre domande c'erano tante mani levate da quella parte poc'anzi bene se cioè male ecco Chiara dove sei? Buonasera sono Teresa e vorrei fare diciamo una domanda più specificatamente incentrata sulla libertà perché diciamo facendo riflessioni storiche si può vedere come l'aspirazione alla libertà è stata utilizzata spesso da uomini che si sono trovati al potere come un mezzo di inganno dei popoli non lo so si può pensare allo stesso Hitler nella Germania in cui il partito di quest'uomo diciamo dimostrò una certa empatia verso il popolo tedesco che si versava in condizioni terribili e diciamo dandogli un'illusione illudendoli che diciamo un senso di superiorità verso gli altri popoli europei potessero dare la dignità e la libertà esistono molti altri esempi diciamo anche molto più recenti basta pensare anche all'Italia se mi permettete in cui la maggior parte degli italiani per molti anni ha votato il popolo delle libertà diciamo interpretando cioè credendo a questa sigla diciamo a questa parola che in realtà secondo me rappresentava altro ecco secondo me in questo senso la libertà deve andare oltre diciamo la concezione spirituale diventare quasi diciamo un qualcosa di culturale cioè in questo senso la libertà per difendere i popoli dall'inganno dovrebbe essere insegnata come un fatto culturale e volevo chiedere quanto in là ci si può spingere ad insegnare la libertà perché comunque deve rimanere il senso del dono gratuito e come si può insegnarla questa è la domanda che facciamo un'altra domanda o rispondo c'è un signore qua mi dispiace lontanissimo mi chiamo Ettore buonasera la mia domanda è abbastanza breve anche se il tema è importante libertà di morire e la morte come dono inteso come fine della sofferenza questa è la cosa sì grazie buonasera mi chiamo Andrea e vorrei chiedere la vostra opinione su uno stato laico che mantiene l'insegnamento Andrea della religione cattolica nelle scuole e toglie quello dell'educazione civica buonasera sono Claudio innanzitutto vorrei dire una cosa da un colmenia cioè che io non sono un credente ma il confronto con persone come lei mi rende molto felice mi arricchisce sempre quindi volevo fare le complimenti e poi la domanda che volevo fare a entrambi se possibile una risposta insomma da entrambi i punti di vista è questa tornando sulla politica sulla appunto libertà non pensate che questo governo tecnico sia un grave attentato alla politica scusa il governo tecnico non sia un grave attentato alla alla politica e quindi intesa come come partecipazione allo spirito della politeia e quindi alla libertà molto bene c'è ampia materia diciamo è difficile allora ma c'è un altro beh dunque Teresa ha posto una domanda diciamo teorica di scuola libertà come e quanto insegnarla come si fa ad apprenderla guarda Teresa la libertà si apprende esercitandola sfruttando in tutta la loro estensione i diritti che ci sono dati non rinunciando mai a niente reclamando tutto quello che ci spetta ma nello stesso tempo questo è il significato alto della parola libertà già richiamato in quella articolo della costituzione del 93 ma nello stesso tempo essendo pronti come cittadini ad assolvere tutti i doveri perché non c'è libertà senza dall'altra parte dei diritti avere degli equivalenti doveri perché se no la libertà è licenza arbitrio abuso e allora non è più è la libertà di un singolo noi stiamo parlando della libertà di tutti la libertà di tutti si può avere quando i diritti di ognuno sono contemperati da quello degli altri su questo è una cosa ormai tutte le opinioni sono concordi concordi Ettore e insomma Ettore Claudio e Andrea hanno diciamo sfaccettato in tre cose in tre spicchi un unico frutto per così dire Ettore la libertà di morire dove è Ettore? Ecco Ettore la libertà di morire fa parte delle nostre libertà indisponibili io in questo momento posso tirare fuori un revolver dalla tasca e spararmi un colpo in testa sporcando dappertutto ma e nessuno me lo può impedire cioè sono in un luogo pubblico ovviamente qualcuno me lo potrebbe impedire ma se fossi a casa mia nessuno me lo può impedire nessuno mi può impedire se io non sono più capace di disporre dei miei gesti di chiedere che le cure vengano sospese e che mi si lasci andare l'ha fatto perfino un papa figuriamoci se non lo posso fare io io non ho nessuna voglia non ho nessuna voglia se mi dovesse capitare di passare anni attaccato a un tubo con qualcuno che mi pulisce il sedere perché non posso farlo da solo e stando lì anni ad aspettare finalmente la morte quella libertà io la reclamo totalmente la questione sollevata da Andrea è delicatissima perché investe aspetti giuridici investe il doppio concordato che lega la Repubblica italiana allo stato della città del Vaticano mai come in questo caso stato straniero stato estero il concordato del 29 e il concordato dell'84 il primo sigla firmato da Benito Mussolini e il secondo da Bettino Craxi sono due trattati internazionali ancorché anomali perché in pratica impegnano una parte sola ma o prevalentemente una parte sola sono due trattati internazionali che ci legano a questo anzi col concordato dell'84 qualche cosa si è guadagnato perché la religione cattolica con tutto il rispetto per Don Colmegna ha perso il titolo che aveva dal 29 di essere religione di stato una religione di stato ovviamente in uno stato laico non ha senso c'è nei paesi di integralismo musulmano non ci può essere in Europa una religione di stato quindi con il concordato però è rimasto l'insegnamento della religione cattolica che però caro Don Colmegna i predi più aperti io ne ho conosciuto qualcuno e più intelligenti trasformano quell'ora non in una lezione di catechismo ma in una lezione di storia delle religioni il che va bene secondo me perché un'educazione a che cosa come si è dispiegata la spiritualità umana nei luoghi e nei tempi fa parte credo dell'educazione di un uomo civilizzato Claudio io Claudio io non ho i tuoi dubbi intanto perché questo governo non è vero che è un governo tecnico è un governo politicissimo non si è mai fatta sai che vuol dire fare politica significa amministrare amministrare era un governo tecnico nel senso che non amministrava quello di chi un anno fa quando le cose già stavano precipitando verso un baratro ci diceva che la crisi era alle nostre spalle che tutto era già finito che i ristoranti erano pieni e che tutto andava bene quella quella turlupinatura era non fare politica era prendere in giro le persone tutto va bene è tutto finito ne siamo usciti meglio degli altri i ristoranti sono pieni di gente che temete ecco che temiamo lo stato in cui siamo ridotti oggi brutto scemo in questo dialogo evidentemente la qualità e la quantità dei temi sono forti e abbastanza anche sul tema della libertà prima certamente è un grande processo anche educativo di formazione io qui dico che nelle scuole deve entrare non soltanto dopo il dramma di Brindisi allora si comincia a muoversi ma deve stare all'interno continuamente nei processi di formazione della scuola dei giovani e altro che sono la grande speranza questo tema della libertà così come è stato conquistato come si è stato tradotto nella nostra Costituzione come batte qualsiasi tipo di atteggiamento di criminalità e di battaglia il mio amico Don Ciotti credo che abbia portato dentro questo tipo di esperienza noi in Casa Carità abbiamo scelto proprio in quel giorno lì di dare eravamo già legati prima a Libera il giorno dell'anniversario di Falcone lo dico perché la libertà viene conquistata anche oggi a prezzo di sangue contro qualsiasi forma di corruzione di legalità e di battaglia continua forte dentro nei processi e questo va riconsegnato ai giovani come grande speranza e la scuola deve essere un asse formativo la scuola è un grande investimento evidentemente in termini di processi educativi formativi fare la teoria dei tagli trasversali come è stato fatto dove si va dentro a colpire indirettamente tutti e la scuola ne va di mezzo credo che sia una grossa battaglia che va fatta e va ripresa in termini forti tra l'altro il tema libertà poi ha dentro un asse culturale molto forte me lo lasciate dire per uno che ha vissuto undici anni con i dimessi dallo sedale psichiatrico e Basagliano dal punto di vista della formazione non a caso in questo periodo si comincia a ripresentare ancora in Parlamento la riapertura il cambiamento della 180 con tutti i problemi è chiaro che dentro lì vuol dire riaffrontare anche un problema di libertà che è la capacità di vivere sul territorio di rompere i contenitori chiusi la separazione il contenimento come allontanamento gli ospedali psichiatri giudiziari libertà vuol dire mettere in moto dei meccanismi che hanno un significato sociale enorme vuol dire rendersi conto che non ci può essere nessuno che è tagliato fuori per sempre consegnato nella chiusura degli ospedali riaprire le porte avere non luoghi chiusi questo non è quello che succede nei centri di identificazione nelle nostre carceri che sono evidentemente un segno dove c'è qualcosa che non funziona basti pensare al sovrappollamento la pena è togliere la libertà l'afflizione estrema che c'è evidentemente imbatte contro un sistema che non può essere così e forse siamo troppo pochi a chiedere questo cambiamento e questa attenzione dire libertà vuol dire che quello che sta succedendo nelle carceri italiane non funziona va denunciato fortemente perché questo è uno degli elementi forti perché la libertà è un grande progetto sociale di cambiamento di politiche anche sociali forti di non chiusura degli spazi separati questa è la passione che la libertà mette in moto e aver visto che invece c'era qualcuno che utilizzava il nome libertà popolo della libertà per politiche chiuse di separazione di ghettizzazione dei diversi questo è stato un'offesa un insulto alla parola libertà io credo che il tema è così delicato sulla libertà e certamente sull'accannimento terapeutico altro e così via che è estremamente forte il dolore il dramma va riportato anche nella libertà di vivere credo che questo sia uno degli elementi molto forti oggi il dramma che sta succedendo chiede evidentemente una riflessione molto forte io sono anch'io d'accordo che il no all'accannimento terapeutico la capacità di riconsegnare resta dentro nelle esperienze delle persone abbiamo partecipato molto a questa riflessione anche di Welby con tutta la riflessione con tutto lo scandalo che si è creato non ho dubbio che proprio perché il tema della morte è un tema drammatico che entra dentro nella coscienza di ciascuno che non va rimosso una società dello spettacolo si rimuove tutto e si fa anche questo riflettere su questo tema interrogarci sul suicidio che sta succedendo adesso è un tema che non può essere sottovalutato quello che sta succedendo a livello culturale certamente credo di essere d'accordo nel dire che nessuno può imporre a qualcun altro delle cure un accanimento terapeutico tale che non possa stiamo anche a Milano raccogliendo le firme sul tema del testamento sul tema della partecipazione a questo credo con molto coraggio posizioni diverse ma credo che sia importante lo dico lo dico sapendo che questo è un punto drammaticamente e culturalmente sofferto perché quando si parla di morte di dolore di altro entra dentro il senso del limite per cui quello che si può fare semplicemente è rispettare le storie delle persone quando io ho vissuto evidentemente in casa delle persone accompagnando anche le persone dolore alla morte partendo dalle persone più care perché tutti noi hanno dentro l'esperienza di morte di relazione anche insieme di dramma ci si rende conto che ogni esperienza è soggettiva trasformarla in un'esperienza collettiva in regole per tutti è evidentemente una forzatura perché dipende dalle storie soggettive in questo senso la libertà è veramente una libertà molto forte scusi Don Colmegna mi permetta perché questo è un tema delicatissimo che mi permetta un intervento poi lei riprende le sue riflessioni lei ha detto una cosa importante che vorrei sottolineare lei ha detto imporre la stessa cosa a tutti cioè ha parlato di una legge anche io credo che imporre per legge quello che può o non può essere fatto nella fattispecie nei casi cui stiamo alludendo sia un errore ogni caso è diverso da un altro ogni caso deve essere affidato intanto al soggetto interessato se è in grado anche con gesti cenni di esprimersi poi a chi gli vuole bene e poi al medico curante come avviene oggi perché oggi in assenza di legge lo sappiamo tutti questo avviene c'è un caso disperato non c'è bisogno di dire nulla il medico guarda la moglie il marito la madre il figlio e ci si intende con uno sguardo ed è inutile andare avanti e questo la legge che dice ma invece l'alimentazione l'alimentazione forzata non può essere interrotta perché è una cosa non si può condannare un uomo a morire di fame ma quelli che dicono una cosa del genere scusi Don Colmegna abbia pazienza l'ho interrotta lo so ma poi non parlo più quelli che quelli che dicono una cosa del genere purtroppo io lo so bene non sanno che cos'è l'alimentazione forzata l'alimentazione forzata non è pane prosciutto l'alimentazione forzata è un un pappone chimico di medicine e vitamine e proteine e medicine medicamento non è l'alimento che ci mangiamo tutti i giorni è un'altra cosa imporlo per legge è una barbarie anche perché lascerebbe spazio anche ad altre persone in termini di contesti che potremmo raccontare anche altri episodi dove uno vuole lottare fino all'ultimo e vuole chiedere dipende molto dal contesto anche che c'è la generalizzazione e qui non serve perché poi rende impotente il dibattito che diventa solo masmediatico in termini di riflessione e credo che tutti noi abbiamo credo non c'entra niente su questa domanda perché altro però mi fa ripensare adesso il numero di suicidi o la comunicazione continua di suicidi che ci sono che non sono legati semplicemente alla crisi economica ma sono legati a un dramma interiore di formazione della coscienza perché capisco la crisi economica ma il gesto di togliersi la vita è evidentemente un gesto così pesante così drammatico così violento su se stesso che apre delle riflessioni anche molto forti lo diciamo di fronte alle persone che abbiamo lì ne ho lì diverse di situazioni di persone salvate da questo con dentro il dramma che hanno e credo che questa sia una riflessione molto forte il tema della vita della morte entra dentro come un elemento che non può essere frettolosamente affrontato dentro delle dimensioni e qui nasce il fatto che la nostra società deve diventare sempre più una società dove le reti affettive le reti affettive i legami devono diventare forti la società della solitudine estrema esasperata pone ciascuno di fronte da solo e questo crea dei drammi ancora più forti a maggior ragione quando si parla a questo livello di riflessione sul tema della regione cattolica che altro certo siamo un'ipotesi concordataria mi piacerebbe prendere l'applauso adesso ma questo mi rendo conto che i percorsi sono difficili anche molto forti vale questo che oggi stiamo diventando un paese evidentemente dove la presenza anche di religioni diverse si fa molto forte a Milano ci sono un milione duecentomila abitanti quattrocentomila anziani superiori ai 65 e 67 anni rispetto a questo e dall'altra 220 mila immigrati genitori stranieri rispetto a questo in casa mia la maggioranza di ragazzi che sono lì sono di religione musulmana e quindi il problema evidentemente nel carcere dove la presenza degli stranieri è elevatissima la presenza c'è è chiaro che il confronto di una società plurale come la nostra con diverse appartenenze con diversi problemi anche culturali molto forti perché il tema della laicità poi riguarda anche certe culture credo che porrà un problema molto forte per adesso infatti trasformarlo anche in una dimensione religiosa che di fatto è una dimensione che ha un suo efficacia pubblica la secolarizzazione non rende semplicemente individuale la religione è un fatto anche pubblico quindi conoscere credo che sia importante quindi educazione civica ma forse anche il valore della storia delle religioni dentro il meccanismo credo che sia importante sul governo tecnico qualcosa io sono anch'io d'accordo sulle cose che venivano dette però me lo lasciate dire uso io sempre una parola forte purché la tecnica non prenda il campo e non spodesti la politica questa politica va spodestata certamente però deve ritornare il fatto che la politica deve governare la tecnica le scelte altrimenti andiamo in una parola molto forte che è la morfina tecnocratica in questo momento dove tutti ci addormentiamo sulla tecnica e la politica si ristrae perché non è capace di risolvere i problemi allora noi adesso dobbiamo riprendere questa capacità delle scelte prioritarie e altre su questo nasce una grande questione che abbiamo di fronte il valore della politica come capacità di governare i processi anche economici processi anche finanziari perché altrimenti certo siamo dettati dal sistema bancario dai sistemi degli altri quindi riproduciamo questo credo che sia una difficoltà molto grossa che stiamo vivendo mi sembra che bisogna riconquistare anche questo valore della partecipazione che altrimenti riduce la politica a una funzione soltanto esecutiva e questo mi lascierebbe qualche preoccupazione io dunque intanto la nostra amabile Chiara mi ha detto che alle 10.30 chiudiamo e va benissimo volevo dare rapidissimo un supplemento di risposta a Claudio e anche a Don Colmegna perché la domanda che è stata fatta è importantissima e trattandosi della nostra vita io paragono questa parentesi perché di questo si tratta all'istituto romano del dictator come tutti sappiamo nei momenti di grave emergenza la Repubblica Romana di allora sospendeva le normali istituzioni le normali leggi andava a chiamare una persona che si riteneva adatta a risolvere il problema il quale veniva a Roma prendeva il potere cercava o risolveva pensiamo a Cincinnato il problema terminato il quale se ne tornava come nel caso appunto di Cincinnato a coltivare la vigna io credo spero confido che la fase che stiamo vivendo sia paragonabile a quella dopodiché nel 13 andremo a votare chissà con quale legge e vediamo che succede abbiamo abbiamo dieci minuti sì salve mi chiamo Giulio è una domanda molto semplice mi riallaccio anche a quello che diceva poc'anzi perché a Roma c'era già il senso del cittadino cioè oggi quello che non c'è in questo paese a differenza dei paesi anglosassoni è che nella nostra modo di fare politica abbiamo perso il senso del cittadino che è una persona che ha dei diritti ma soprattutto che ha dei doveri nei confronti degli altri cittadini mi piacerebbe dire i romani ce lo avevano diventare cittadino romano era ambito e aveva delle responsabilità il cittadino romano il cittadino italiano ormai scappa da ogni tipo di responsabilità si può tornare a parlare in questo paese prima o poi di religione civica e non più di religioni cioè quello che ci unisce tutti essere cittadini di questa nazione sono qua giù no no qua fuori non sono riuscito ad entrare volevo fare una domanda c'è il dote lui ha spiegato in modo nome ah mi chiamo Marco scusate lui ha spiegato anche in modo molto intenso la sua appartenenza alla chiesa cattolica nonostante le sue contraddizioni i problemi le cose che lui non condivide che sono tante mi sembra però la chiesa cattolica è un'istituzione fortemente gerarchica la chiesa cattolica è la chiesa del papa io non posso dimenticare che la chiesa cattolica ha fatto santo un papa Pio IX che nel silabo teorizza la cioè critica e respinge tutte le libertà fondamentali delle liberali democrazie tutte le libertà che fanno parte della nostra costituzione io mi chiedo a un certo punto un uomo anche guidato dalla fede però deve vivere la propria vita e la propria fede con coerenza come si può stare all'interno di un'istituzione che nega molto di ciò in cui si crede questo aspetto non mi è chiaro chiarissimo chiarissimo questo è per lei io rispondo sul cittadino e lei risponde sul pionono scusate io mi chiamo Sabina e avrei l'ultima domanda che non riguarda né la religione né la politica volevo tornare un attimo sul tema del dono abbiamo parlato prima della libertà di morire ma oggi non abbiamo ancora parlato del dono della vita e pochi giorni fa la consulta si è espressa non esprimendosi in tema di procreazione assistita e mi piacerebbe sentire la vostra opinione anche su questo tema grazie questo ce la dividiamo allora lascio la chiusura a Don Colmigna con la sua poi basta però se no ci caccia poi ci caccia avrei una sola domanda sono Simone 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 vorrei sapere come da cristiano da credente io non sono credente si concilia questa condizione questo è un covo di atei benvenuto a casa come si concilia però anche gli atei avranno qualche problema no? più di uno come si concilia dal punto di vista appunto di un uomo di fede questa gratuità del dono come dice lei partendo da una posizione di superiorità cioè ogni religione in sé è una posizione diciamo di ortodossia cioè che porta la retta parola e in ogni cosa che dice Don Colmigna si sente chiaramente quando parla del suicidio per esempio che bisogna assolutamente pensare più e più volte delle conseguenze del gesto è proprio il contrario di quello che dice il signor Auger cioè se io voglio prendere e ammazzarmi io penso a Romangheri questo scrittore diciamo adottato dalla Francia che nell'82 nell'85 si spara perché non sopporta più la vita se io adesso mi sparo io non devo fare nessuna riflessione io lo voglio fare e lo posso fare dal punto di vista religioso e questo non può succedere e mi viene in mente una battuta per sdrammatizzare benvenuti in casa Gori appunto noi toscani ci siamo molto affezionati quando gli viene detto dice voi cristiani siete così avete questa massima perché si può fare stare bene una persona sola quando si può stare male tutti adesso va bene Simone va bene allora qua ancora una volta abbiamo una Giulio che ha posto il problema dei diritti di cittadinanza dov'è Giulio sì eccolo ah state in coppia voi due dunque Giulio hai ragione noi viviamo un periodo di confusione terribile per la verità è durato molto perché lo viviamo questo periodo di confusione secondo me da almeno sei anni sette anni ma sai ritrovare un equilibrio in 60 milioni di persone litigiose come siamo noi ritrovare un equilibrio politico un assestamento non è facile ci vuole molto tempo ci vuole un sacco di tempo intanto però che cosa succede in questo paese succede una cosa come quella che stiamo vivendo stasera e ci sono altre cento occasioni numerosissime più di cento come questa che si svolgono in tutta Italia passare una serata di sabato a sentire due tizi che parlano e parlare insieme e ridere insieme e applaudire le stesse cose questo è esercizio di cittadinanza questo stare sotto questo tendone stare sotto questo tendone a Pistoia a Mantua a Gorizia a Benevento in tutti i luoghi d'Italia dove a partire da adesso fino all'autunno si svolgeranno queste cose questo è esercizio di cittadinanza questo è allenamento che cosa manca a questo esercizio di cittadinanza probabilmente e per molti manca uno sbocco politico senza il quale il diritto di cittadinanza resta un po' così appeso a un'attesa ecco ma lo sbocco politico arriva prima o poi arriva è arrivato in maniera tumultuosa e vediamo adesso che succede a Parma per fare l'esempio più clamoroso già lì vediamo come sia uno sbocco politico dubitevole ma arriverà perché la politica ha orrore del vuoto e quindi prima o poi arriverà intanto sfruttiamo al massimo queste cose le lascio tutto Pio Nono per carità e volevo parlare invece con Sabina e rispondere a Sabina del dono della vita Sabina si riferiva come tutti avranno capito al fatto che la corte costituzionale qualche giorno fa doveva discutere la fecondazione eterologa cioè una coppia sterile ricorre al seme o all'uovo di un terzo estraneo alla coppia nel caso che sperma e uova all'interno della coppia non siano compatibili questo dono a pagamento ovviamente o dello sperma o dell'uovo all'esterno della coppia la legge 40 del non mi ricordo l'anno lo proibisce quella era stata una legge terribile fatta una legge frutto di una ideologia voluta fermamente da persone che adesso non nomino ma le conosciamo appoggiata fermamente dalla chiesa cattolica anzi stimolata dalle gerarchie della chiesa cattolica perché dico che è una legge terribile perché vedete in un mondo globalizzato quale è il nostro impedire in un solo paese noi una cosa che due persone vorrebbero fare e che hanno il diritto di fare se lo vogliono e hanno il diritto di farlo nelle condizioni sanitarie e al pre migliore possibile e al prezzo minore possibile laddove le coppie infertili italiane sono costrette ad andare dovunque dalla Svizzera alla Spagna alla Francia alla Turchia ovunque in Europa e perfino in Medio Oriente a fare questa cosa in condizioni sanitarie spesso insicure e con un costo rilevante solo perché per ideologia questa cosa è impedita in Italia questo è un altro degli esempi di come caro Don Colmegna il presupposto la presunzione di avere il monopolio della verità prima la signora aveva tirato in ballo il sacrosanto dubbio avere il presupposto della presunzione della verità sia uno dei pericoli maggiori per la libertà certamente appunto per questo credo che sia abbastanza importante dentro in questo cogliere sempre gli elementi di discussione di ricerca il problema è che su alcuni temi eticamente sensibili al di là credo che ci sia bisogno di percorsi che poi trovino uno sbocco attraverso un confronto serio sapendo che ci sono anche posizioni plurali non si affrontano evidentemente in termini generici mi pare che oggi il tema della libertà sia estremamente importante abbiamo bisogno di luoghi dove se ne discuta fortemente si apre il dibattito e si traduca i tempi sono in grande ritardo perché nella misura in cui entrano posizioni ideologiche di scontro non si riesce ad affrontare e la nostro paese è una situazione di stallo ma rispondo a quello che mi riguarda dopo il dibattito di stasera io sono contento felice di appartenere alla mia fede essere dentro in una chiesa che critico fortemente ma nella quale ci sono dentro perché la chiesa prima ancora che gerarchica è comunità di donne di uomini che vivono la propria esperienza di fede partecipano dal basso c'è stato un concilio Vaticano II che ha rovesciato anche alcune prospettive ha posto evidentemente anche posso dire una battuta cattiva ciò che ne resta ciò che ne resta ma ciò che resta ma non lo so cioè qualche volta quegli estrani si preoccupano così tanto del nostro campino che lasciateci andare avanti rispetto a questo non preoccupatevi così tanto di cambiare la chiesa lasciateci andare avanti un po' nel senso che io credo che l'esperienza del concilio Vaticano non è morta non è morta in America Latina pur se gli hanno dato delle bastonate c'è stato evidentemente tanta gente che c'è c'è tanta esperienza di base credo che tutti in questo paese abbiamo bisogno nella diversità di dialogo religioso di confronto di aumentare gli elementi di condivisione insieme di fronte alla vera alterità che è quella dell'individualismo esasperato della ghettizzazione perché lo scontro del nostro paese non è tra religioni cattoliche e altro è tra modo di intendere la cittadinanza cittadinanza inclusiva che non esclude cittadinanza solidale non privata e altri elementi credo che è la trasversalità il nuovo che c'è nel nostro paese la trasversalità ve lo lasciate dire anche in terra toscana quando si è inventato che doveva crescere un'appartenenza anche diversa dove le diverse culture si incontravano sul bene comune che non era solo la carta costituzionale ma un modo di vivere la solidarietà invece che l'individualismo questo ritorna ancora perché se sono là tutti i giorni a lavorare e vedo un problema migratorio lo porto dentro nella mia fede ma lo riconsegno una politica di unitarietà profonda rispetto a questo e viva Dio che ci sono tante esperienze del movimento cattolico del volontariato della società civile che io sono preoccupato che questa dimensione venga messa all'angolo rispetto a questo questa è produttrice di categorie anche politiche io sono un po' scettico sul fatto che questo governo tecnico eschi il 2013 altro perché sono un po' preoccupato della decadenza del valore della politica e poi la Fornero quando parla di articolo 18 quando parla fa politica non fa mica una questione tecnica semplicemente e rispetto passera quando imposta alcuni problemi dopo aver fatto non è che proprio una persona ho bisogno che la politica ritorni che ha bisogno di scelte tecniche ma le scelte tecniche non sono appoggiate uguale unanimemente perché poi bisogna dare degli orientamenti l'operazione fiscale deve andare a incidere in un paese e in un mondo dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri credo che questo sia il grande bisogno di una politica nel quale immettiamo dentro tutta la nostra capacità di cittadinanza io ci sto dentro nella chiesa vivo ogni giorno la mia fede interrogata nel dubbio con una grande capacità di relazionalità mi fate chiudere con una battuta in casa della carità quando abbiamo vissuto il grande problema fu che dopo aver detto solidarietà hanno raccolto le firme sostanzialmente di tutto poi quando abbiamo portato anche in casa di rom vi potete immaginare cosa è successo la grande vittoria che abbiamo avuto in termini di consenso in quella città in quello quartiere fu quando ci furono gli anziani del quartiere 75-76 anni con la loro memoria storica diversa che hanno cominciato a venire lì tutti i giorni mentre ci sono anche i bimbi ron che circolano in questa ospitalità e l'ha inventato un senegalese musulmano questa esperienza e questi anziani hanno detto le bravo anche se le neger vuol dire che di fatto la prossimità riapre sempre delle speranze grandi grazie